Le tasse si possono anche tagliare sul serio, perché io in un anno di amministrazione ho tagliato dello 0,1% l'addizionale comunale IRPEF e ho tagliato dello 0,5% l'IMU, abbassando l'IMU sui capannoni industriali e sulle attività produttive. Sì, come ha fatto Bitonci? Me lo dice in una battuta, come ha fatto ad abbassare queste tasse? Ha dovuto tagliare quali voci? Il tasse comunale è per ben 12 milioni di euro, quindi vuol dire che al di là dell'applicazione dei costi standard, anche gli enti locali o anche i ministeri, se vogliono, possono tagliare tutta una serie di spese superflue. Io come esempio sono partito anche dalle piccole spese, cioè il sindaco e la giunta non hanno più le macchine blu, allora è da anni che si dice tagliamo le macchine blu, però in realtà ce ne sono migliaia in circolazione. Il sindaco di Padova è penso l'unico sindaco di città capoluogo che gira con la sua macchina e così anche gli assessori. Sì, almeno il rimborso benzina però lo prende, no? Immagino. Possono essere effettivamente tagliate. La benzina gliela rimborso il comune però, immagino, almeno quella. Ma io non chiedo nessun rimborso, non ho il telefonino, non ho il tablet e penso che questa è una scelta che possano fare non solamente i sindaci, ma soprattutto a livello centrale, soprattutto in Parlamento e anche nei ministeri perché io dico sempre, bisogna sempre cercare di dare buon esempio partendo da noi amministratori e dopo chiedere i sacrifici alle persone. Non si può chiedere sacrifici alla gente e dopo invece a livello centrale, in Parlamento, nel Governo non cambia assolutamente nulla.